Come è nato il canale di YouTube e come si è sviluppato nel tempo lo spiego a una scolaresca di un istituto tecnico agrario durante questa lezione. Abbiate fede e seguite il video. Allora, due parole prima di iniziare su come è nata la storia di YouTube. Sostanzialmente una delle cose più difficili da far fare agli agricoli è fare dei cambiamenti, perché tutti sono chiusi all'interno della loro realtà produttiva e ognuno la sa più lunga degli altri. E quindi cosa succedeva? Che quando tu vedevi una stortura o una cosa che non funzionava, ad esempio qua non so il discorso della vitellaia, dovevi dire a uno guarda i vitelli li puoi mettere anche in un posto più largo. Barra da un altro e dici guarda che puoi fare un pascolo per le asciutte perché ce l'ho dal tale, quest'altro ce l'ho dal tale. Tu quindi in fase di consulenza dicevi si può fare questo, si può fare quest'altro. Però come voi avete il problema che a scuola non riuscite a vedere spesso in pratica determinate cose, gli allevatori per motivi di tempo stanno all'interno della loro stalla e non riescono a vedere in pratica come le cose si possono fare in un altro modo. Quindi ho iniziato a fare i filmati a casa di una e a casa dell'altro, chiaramente delle cose belle e ben fatte. Perché questo poi mi dava la possibilità via Whatsapp di inviare il link all'allevatore a cui avevo spiegato una cosa. Guarda che tu dovresti tenere i vitelli in gabiette pulite così così con l'acqua, con l'acqua, il mangime. Eh sì vabbè dottor però vieni là in quella stalla che ti faccio vedere com'è. Sì 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 poi non si muoveva nessuno. Qui a un certo punto ho detto facciamo un'evoluzione, filmiamo una cosa fatta bene, una volta che io trovo una relazione con un allevatore che quella cosa non la fa così bene e mi contesta che non si può fare, io gli mando il link via Whatsapp del video di Youtube che ho caricato. Quindi sostanzialmente è nato come volontà di comunicare con i miei allevatori come si possono fare determinate cose. Dopodiché Google ha, quando Youtube è stato acquisito da Google, Google ha un sistema di indicizzazione molto semplice, che le cose che vengono viste le fa vedere e le pubblicizza, le cose che non vengono viste le elimina o quantomeno non le indicizza. E quindi dai 1, dai 2, dai 3 gli allevatori hanno iniziato a guardarle, segnatamente i miei allevatori. Quindi la partenza del canale di Youtube è stata una partenza come tutte le cose, molto lenta, molto graduale. Quindi a giugno 2016 io avevo le mie 20 visualizzazioni al giorno, poi 2 video, 3 video, 4 video, 40, 60, 80, 100, 120, 200 visualizzazioni e poi pian pianino siamo arrivati oggi su intorno alle 8.000 visualizzazioni al giorno. Di tutti i video che ci sono, dove parte ne avete fatte voi, parte allevatori di tutta Italia. Una delle problematiche da gestire all'inizio era quella comunque degli animalisti, perché comunque quando tu ti esponi su un tema così delicato come quello dell'allevamento, al mondo esiste una grossa variabilità di persone con pensieri ognuno diversi. Quindi la fortuna è stata che la community che si è instaurata all'inizio era una community fidelizzata, quindi una community che ha preso le difese di un progetto di comunicazione che è quello che oggi vedete. Quindi di fatto il progetto ha una valenza educativa solo per chi lo vuole fare l'educazione, chi la vuole subire, nel senso che se uno non gliene frega niente sta poi dov'è, ma nel momento in cui a te interessa apprendere una cosa la puoi avere a disposizione in qualsiasi momento della giornata. Ed è il motivo per cui oggi abbiamo fatto una parte pratica, andremo poi in un'altra stalla, vi farò vedere anche l'altra stalla, facciamo una presentazione per voi su richiesta, perché poi alla fine le cose su richiesta sono quelle più seguite e voi siete espressione di una richiesta di un pubblico. Probabilmente come voi volete una qualche informazione in più sulle malattie metaboliche, qualcun altro le vuole. L'altra scelta che ho fatto è quello di non parlare un linguaggio troppo tecnico. Perché? Perché le cose le si può affrontare in tanti modi. Ho scelto un target di allevatore, con un linguaggio molto semplice, affinché le cose possano essere comprese nell'ABC. Quindi è il messaggio che oggi do a voi, no? Una lezione sulle malattie metaboliche del bovino e del latte che sia basica. Cioè che tratti degli elementi non controvertibili. Perché l'altro problema del web è che se tu dici una stupidata o una cosa non assolutamente vera, puoi avere una serie di persone che ti danno contro e cercano di ribadire dei concetti diversi. Quindi l'aspetto della comunicazione è un aspetto che andando avanti nel prossimo futuro sarà un aspetto sempre più importante che dovremmo affrontare. Questo è un po' come cappello introduttivo a quello che avete visto fino a ieri sul canale di YouTube. Come nasce una...